Non c'è competizione. Allora, la sostanza è questa, è l'energia con chiarezza, vincono loro, noi non sappiamo niente. Allora, parlate della moderna, parlate di comunicabile di casa, tre persone, ognuna col telefonino, e si stanno messaggiando tra di loro, questo è il plevito. Vede la nostra squadra invece com'è, c'è rapporto umano, lei magna il biscotto. Alla 21.10 tutti i mercoledì su Italia.